per il 2020 givi presenta un nuovo casco jet per i bambini è molto importante che diate la massima protezione disponibile per i vostri bimbi e givi vi può dare proprio questo è un casco che abbiamo studiato con tutte le soluzioni normalmente riservate a un casco per adulti quindi sistema di ventilazione completo interni rimovibili lavabili e viene in tre differenti colorazioni due calotte matt e una calotta lucida il casco j05 da givi